Papa Francesco ha ricevuto un'udienza in Vaticano alla signora Kolinda Grabar-Kitarovic, Presidente della Repubblica di Croazia. Nel corso dei coldeari colloqui si sono constatate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia, ulteriormente rafforzate dagli accordi stipulati tra le parti. Inoltre sono stati affrontati temi di comune interesse, tra i quali la collaborazione fra la Chiesa e lo Stato per il bene comune della società croata, in particolare al sostegno della famiglia e dei giovani. Il Papa e la Presidente di Croazia si sono poi soffermati sulle conseguenze sociali della crisi economica mondiale, come pure sulle principali sfide regionali, con particolare attenzione alla situazione dei croati nella Bosnia e Herzegovina.